Il rilascio di altri 26 detenuti palestinesi previsto dai negoziati di pace provoca reazioni roventi in Israele. Gruppi della destra estrema e associazioni dei familiari delle vittime hanno manifestato davanti alla prigione di Ofer a Tel Aviv, accusando il governo di tradimento. Il messaggio di questa manifestazione non è solo diretto al nostro governo, ma anche ai governi europei e a quello degli Stati Uniti, che chiedono a noi quello che loro non fanno, non liberano i terroristi. Sono assassini, crudeli assassini, come questi che hanno ucciso con asce e coltelli e ora sono dietro le sbarre. Il nostro governo ci ha traditi, è un tradimento liberarli. Intanto si riaccende la tensione con i palestinesi lungo la striscia di Gaza con il lancio di due razzi ai quali Israele ha replicato con un nuovo raid aereo.